Direi un bilancio positivo, un bilancio ottimo a mio modo di vedere, anche se l'ultima parte è stata un po' più in difficoltà. Abbiamo fatto la girona d'andata e di conseguenza le finaletti di Coppa Italia alla grande, raggiungendo una finale che a settembre era quasi un sogno o una bestemmia, dipende come si voleva. Quindi direi veramente una buona stagione e quindi rifletteremo su questa stagione per il futuro. Ecco, anticipato il futuro, se ci può dare già qualche indicazione su quale sarà la politica societaria in merito? La politica societaria è sempre la stessa, più o meno, cercare di non fare cose che non possiamo fare, di fare il passo giusto con la gamba giusta, non più lungo di quello che è la regola, quindi rispettare il nostro budget, le nostre possibilità economiche e dopodiché cercare di strutturare un organico di giocatori che già qualcosa abbiamo, cercare a 360 gradi di ripartire dove non solo la squadra deve essere al centro delle attenzioni, è ovviamente che lo è, ma anche tutto il resto, quindi dar sempre più vita a questa società che sta prendendo sempre più attenzioni nel campionato italiano. La necessità fondamentale per ripartire sarà la riapertura della vitrifrigo al pubblico? Assolutamente sì, è chiaro che è essenziale il nostro pubblico per due motivi, uno per sentire il loro calore, che ti dà sostegno, ti dà tutto quello che sappiamo serve, e anche dal punto di vista economico è chiaro che è un aiuto importante, dopo aver fatto una stagione a zero, rifarne un'altra così sarebbe veramente difficile.